e ora siamo su per la macchina che torniamo da casa torniamo da casa va bene, stavano un tempo buonissimo i signori camminavano, gli immaginavano tutti i paesi e domani si intravenano domani mattino prendono l'aereo domani alla una parte ora locale domani Si 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 Di algo a Salvatore Si Mi salute Mi salute a Franco Si Si Sam Ciao 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 Ciao, 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 io guardo, guardo, no, di qua no, io prendo il mio calazzo.